Iniziamo a dire che il tutto è partito più di un anno e mezzo fa con la richiesta del past president Stefano Ferraro e dell'attuale presidente Andrea Delchica di fare un congresso, di chiedere che il congresso venisse, diciamo così, fatto in Liguria e di questa location un po' particolare, la nave sul mare. Sapendo, io ero socia di IDP e consigliere per i social e mi hanno detto, mi ho passato 23 anni in una compagnia di navigazione internazionale e quindi mi hanno detto, Katia chi meglio di te? Dacci una mano a organizzare questo congresso. Quindi siamo partiti da lì e siamo partiti insieme vedendo, diciamo, cosa c'era rimasto un po', quali aspettative c'erano rimaste dai congressi precedenti, bellissimi congressi che hanno visto anche il sold out, come quello di Vario dello scorso anno, eccetera, però abbiamo detto, cosa c'è rimasto lì che avremmo voluto ancora e non abbiamo ottenuto? Ed era proprio quello di poter dialogare con i protagonisti del congresso e poter portare via qualcosa di concreto. Diceva, il Presidente mi diceva, senti, io voglio di nuovo un back to basic, un tornare ad essere concreti, dare qualcosa ai nostri soci che veramente poi possano utilizzare tornando a casa e andando nelle loro aziende. Qualcosa di veramente pratico che dicano, sì, queste cose bellissime magari le posso fare anch'io, proprio perché se ci sono riusciti loro, perché io non dovrei riuscirci. O magari posso chiedere, queste sono le mie challenge, come potrei? Quindi il networking, il condividere con gli altri le proprie esperienze, ma in modo concreto. Poi noi siamo, a me piace ricordarlo, non siamo l'associazione dei direttori del personale, noi siamo l'associazione per la direzione del personale, questo è importante, nel senso che da noi in associazione si possono associare intanto i singoli, e i singoli proprio perché vogliono, come dire, un continuo aggiornamento sui temi propri, che però sono, non sono la direzione del personale to cure, ma sono la formazione, la selezione del personale, il diritto del lavoro, l'amministrazione, compensation and benefit, l'uelfare, l'ingaggio delle persone, l'inclusione, le nuove tematiche, il diversity, prima parlava il presidente del tema delle plenarie, noi avremmo queste plenarie, una su Genova e una su Cività Vecchia, dove ci confronteremo proprio su questi temi grandi, l'internazionalizzazione, le nuove complessità città, ma poi concretamente le analizzeremo nel pomeriggio, dividendoci in, diciamo, mini congressi, in onde, che rappresentano un po' le varie anime della direzione del personale, di chi a vario titolo si occupa di persone nelle aziende, e quindi chiederemo ai nostri soci che cosa interessa loro di più, perché noi vogliamo ascoltarli e che sia un congresso più personalizzato possibile, che parli alle persone e che serva alla persona. Quindi se io mi occupo di formazione, noi avremo l'onda per la formazione, magari sono interessata a seguirla, sono interessata perché parla di cose mie, che poi domani torno in azienda e ho la mia valigetta, qualcosa da mettere, e quindi probabilmente sceglierò quello, e poi abbiamo voluto farlo insieme, è vero che organizzato dalla Liguria, ma la prima cosa che ci siamo detti è perché un convegno Ligure, è un convegno nazionale, quindi noi vogliamo coinvolgere, proprio come risorse umane, come responsabili del personale, la tematica dell'inclusione, del, without involvement there is no commitment, quindi coinvolgiamoli, facciamo sì che tutti siano protagonisti, e quindi le onde non sono state disegnate da noi, sono state disegnate ogni onda segnata su richiesta, ha una presidenza regionale diversa, quindi ogni regione si occuperà di un'onda, insieme al partner, allo sponsor, perché noi abbiamo detto, lo sponsor non è colui che ci mette il gettone, dice ah io contribuisco con X al congresso, come si fa di solito per poi avere il proprio logo, eccetera, però poi sui contenuti, intanto fate voi che siete esperti, no, tu sei il nostro partner, quindi tu lavori con noi a disegnare l'onda, perché se tu hai scelto di contribuire al congresso, hai scelto di contribuire nell'onda engagement, nell'onda diritto del lavoro, è perché tu pensi di avere qualcosa da dire, allora aiutaci, aiuta la presidenza regionale che sta identificando le best practice a disegnare con noi quell'onda e a fare in modo che poi possiamo dare qualcosa di più ai nostri soci, quindi non solo i nostri presidenti regionali, quindi chi ha vario titolo, noi abbiamo un comitato scientifico ovviamente, che è composto da ovviamente professori universitari, ma anche direttori del personale di grande importanza, ma a tutti, anche ai nostri partner, che non sono solo sponsor di un congresso solo per avere il loghetto, ma che contribuiscano veramente anche ad aiutarci a disegnare contenuti.